Buongiorno a tutti da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Oggi prima di Natale vorrei parlarvi del visore termico AGM Sidewinder TM35640 che è equipaggiato infatti con un sensore da 640x512 pixel e offre delle interessanti funzionalità che vi spiegherò tra breve. Attualmente è disponibile al prezzo di 2846 sul sito ufficiale della AGM Global Vision che potete trovare sia in descrizione sia all'interno dell'articolo molto più specifico che ho pubblicato su termicienotturni.it Quindi io direi che possiamo iniziare subito dopo la breve sigla. Non andate via, a tra poco! La serie Sidewinder prevede attualmente quattro modelli, la serie con sensori da 384x28 pixel, TM25 e TM35 che quindi variano in base al diametro dell'obiettivo e la serie è dotata di un sensore da 640x512 pixel come il TM35 con obiettivo da 35 oggetto di questo test e il più grande TM50. Il TM35 è avvolto da una robusta armatura di gomma che presenta, come potete ammirare, delle zone irregolari e rialzate per migliorare la presa. La sua forma inoltre consente un utilizzo ottimale anche per i mancini. È realizzato con uno scaffo in alluminio aeronautico che è leggero, infatti la mia bilancia elettronica ha stimato un peso, includendo la batteria, di 592 grammi. Il dispositivo è inoltre lungo circa 19 centimetri ed è protetto da una armatura impermeabile con certificazione IP67. Sul lato sinistro è presente un ampio coperchio che protegge la batteria dagli urti e dalle intemperie. Il sistema di aggancio sgancio, come vedete, è rapido e la batteria 18650 può essere estratta facilmente grazie a una fettuccia che consente una sostituzione veloce anche quando si indossano i guanti invernali. Nella parte inferiore invece troverete una filettatura con passo da un quarto per il collegamento con le piastre fotografiche o altri accessori. Inoltre c'è un piccolo coperchio di silicone che ospita la porta USB. Sulla parte superiore ci sono quattro tasti dalle forme differenziate che offrono un sistema di spessori eccellente che consente infatti di percepirne la funzione anche il buio totale. Il sistema di messa a fuoco è integrato nella campana ed è protetto da una ghiera in gomma che ha notevoli grip sia per la sua composizione sia per gli ampi spessori che facilitano la rotazione. I movimenti comunque sono fluidi, precisi, senza alcun gioco in puntamento anche se ovviamente è necessario applicare un po' di forza visto che la ghiera comunque è impermeabilizzata ed ha la giusta tensione per evitare dei rispostamenti indesiderati. Anche la ghiera per la regolazione delle diottrie ha un design a collare con dimensioni appena inferiore a quelle presenti sulla messa a fuoco centrale. In questo caso la regolazione diottrica consente di variare da meno 5 a più 3 diottrie. L'AGM Sandwinder TM35640 è dotato come comprensibile dalla sigla di un obiettivo in germanio che ha un diametro di 35 mm ed è caratterizzato da un'apertura di f1. Offre inoltre un campo di vista decisamente grandangolare 12,5 gradi per 10 e presenta anche un ingrandimento nativo di 2x e sfrutta inoltre un ingrandimento digitale a 4 step, in questa versione 1x, 2x, 4x, 8x, consentendo quindi all'utilizzatore di raggiungere un massimo di 16 ingrandimenti. L'oculare invece è confortevole ed è possibile anche togliere totalmente il paraluce con bordo laterale maggiorato per i portatori di occhiali. Rileva l'immagine visualizzata su un display OLED da 1024 x 768 pixel che presenta una risoluzione nella media ma dei colori brillanti ma anche ampie possibilità di regolazione della illuminazione. AGM ha fatto la scelta di adottare un sensore di altissima qualità per il suo Sidewinder TM35640. Si tratta infatti di un sensore all'ossido di vanadio, il cosiddetto VOX in italiano, da 640 x 512 pixel che ha una frequenza di aggiornamento di 50 Hz e inoltre un ottimo valore NE Td inferiore ai 20 mK, sempre considerato a 25 gradi di temperatura. La lunghezza d'onda del sensore è inoltre compresa tra gli 8 micrometri e 14 micrometri. Questa combinazione con l'obiettivo da 35 mm di diametro permette al dispositivo di raggiungere una notevole capacità di rilevamento dei soggetti fino a 1800 metri di distanza. È stata inoltre utilizzata una memoria integrata di 60 GB ed è alimentata da una batteria a litio come vi ho già anticipato 18650 che è sostituibile e ricaricabile e che garantisce una durata operativa fino a 5 ore. Nel corso dei miei test pratici con temperature serali fino a meno 3-4 gradi e la funzione wifi attiva è emerso che la batteria si scarica a mediamento di 4 ore. Inoltre il dispositivo può essere alimentato esternamente tramite la porta USB. L'AGM Sidewinder TM35 si distingue anche per la sua rapida attivazione rispetto ad altri strumenti presenti nella stessa fascia di prezzo. Dopo aver premuto il pulsante di accensione occorrono infatti circa 6-7 secondi per l'attivazione dell'otturatore che fa una prima calibrazione rendendo quindi il dispositivo completamente operativo in solo 10 secondi circa. L'interfaccia utente è intuitiva e di facile utilizzo con il menu disponibile anche in lingua italiana. Nell'articolo comunque troverete delle tabelle dettagliate sull'uso dei menu e dei pulsanti. Consente inoltre di utilizzare le solite palette colori quindi il classico bianco caldo, il nero caldo, il fusion e il rosso caldo. Sono anche disponibili 10 livelli di luminosità e di contrasto tra cui scegliere. Inoltre c'è la funzione Image Boost quindi che è l'aumento, il miglioramento dell'immagine che enfatizza i dettagli della stessa. Sono poi presenti due modalità scena. C'è l'opzione riconoscimento che migliora l'immagine per rendere i contorni degli oggetti più distinti mentre giungla ideale per ambienti di caccia grazie alla sua capacità di evidenziare gli oggetti più piccoli. E' dotato inoltre di una funzione ottimale di calibrazione dell'immagine. Sono tre modalità, c'è la correzione del campo piatto automatica, poi è possibile passare a quella manuale e anche a quella esterna. Inoltre ci sono altre utili funzioni come ad esempio una funzione di misurazione stadiametrica che consente appunto di misurare con precisione la distanza tra l'osservatore e il bersaglio. Tuttavia per ottenere risultati abbastanza accurati è fondamentale mantenere una stabilità adeguata durante l'intera procedura di stima. Il visore termico e l'osservazione della AGM può anche individuare il punto di temperatura più elevata nella scena e marcarlo sul display come state vedendo. Questa è la classica funzione hot tracking. Inoltre è anche possibile registrare i video attraverso l'audio e mostrare quanto si vede sul display o sul monitor CVBS esterno. Per sfruttare al massimo il visore termico comunque vi consiglio di utilizzare l'app dell'AGM, si chiama AGM Connect. Una volta installata e configurata come vi sto facendo vedere adesso potrete visualizzare come appunto vedete la visione streaming, regolare tutti i parametri dell'immagine come la luminosità, il contrasto, lo zoom e le palette direttamente dal vostro telefono o tablet e registrare i video sulla memoria del vostro dispositivo mobile. Nel corso del mese di dicembre ho avuto il piacere di testare il Sidewinder TM35 durante l'osservazione principalmente degli ungulati, anche se ho avuto un bel incontro ravvicinato con una volpe. Fin da subito mi è parsa evidente l'attenzione e la cura dei dettagli proferita per la creazione di questo visore termico da osservazione. L'armatura è robusta ed infonde subito una sensazione di sicurezza. I tasti sono facilmente gestibili anche al buio e sin dal primo utilizzo è possibile utilizzare con precisione e senza errori le palette, lo zoom e la modalità di registrazione. Il sensore inoltre si è dimostrato all'altezza offrendo delle immagini veramente di ottima qualità e molto nitide grazie anche all'efficace algoritmo. La gestione delle varie funzioni tramite il menu è facile e intuitiva e il cambio delle palette e colori avviene in modo veramente rapido. Inoltre mi è parso che la durata delle batterie sia più che soddisfacente anche durante i miei test stressanti quando utilizzo il wifi attivo e comunque faccio frequenti cambi delle funzioni proprio per provare il prodotto. In merito alla mia consueta prova di valutare la capacità dello strumento nel distinguere correttamente le differenze morfologiche tra una cerva e un capriolo vi posso confermare che questo è possibile con estrema nitidezza e senza alcun problema a distanze comprese tra 200 e 250 metri. Inoltre il sistema di misurazione stadiametrico della distanza si dimostra abbastanza preciso a condizione di mantenere come vi ho anticipato la mano molto ferma durante la stima. È normale puoi osservare un miglioramento quando il dispositivo è montato ad esempio su un tropiede fotografico oppure lo installate su un classico sacchetto di sabbia magari dal finestrino della vostra jeep. Per quanto riguarda il comfort ho apprezzato particolarmente la regolazione ottimale del display che mi ha consentito di adattarlo alle mie esigenze. Lo spazio di archiviazione di ben 64 GB inoltre si colloca tra i migliori e l'applicazione della AGM è facile da gestire permettendo un utilizzo veramente rapido e intuitivo. Il prezzo inoltre mi sembra adeguatamente linea con la concorrenza anche quella più agguerrita risultando competitivo e giustificato dalla qualità e dalle prestazioni offerte dal visore termico AGM SIND WINDER TM35640. È giunto adesso il momento di parlarvi in sintesi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi direi ottimo rapporto prezzo prestazioni è robusto e impermeabilizzato ha un sensore di ultima generazione e delle modalità scena preimpostate. Un ottimo valore NETD di inferiore a 20mK e un display di alta qualità. Algoritmo performante c'è anche la possibilità di registrare l'audio e le tavolezze e colori sono poche ma soddisfacenti. Buona durata della batteria. Anche l'app dedicata e intuitiva da utilizzare. Tra i difetti direi che non è ovviamente risolvente come il modello con l'obiettivo da 50 mm di diametro. Inoltre manca il sistema PICTURE IN PICTURE. In definitiva ritengo che l'AGM SIND WINDER TM35640 si è dimostrato un visore termico eccellente sotto diversi aspetti. È robusto, funzionale, offre immagini nitide contrastate e vanta una buona durata della batteria oltre a una vasta gamma di funzioni. Si configura infatti come uno strumento ideale per gli appassionati che desiderano ottenere prestazioni di alto livello senza dover investire cifre spesso irragionevoli per un prodotto al top della gamma. Il formato da 35 mm abbinato al sensore di ultima generazione da 640 x 512 pixel e un valore NETD tra i migliori della categoria lo posiziona come un'ottima scelta anche in confronto alla concorrenza più agguerrita. Io ringrazio Georg Radev di AGM Global Vision per avere fornito l'esemplare oggetto di questo test lasciandomi libero di citare le mie impressioni personali sul campo. Per oggi termino qui, vi aspetto come sempre su questo canale, vi invito a visitare il sito ufficiale riguardante i termici che è termicienotturni.it e il sito ufficiale binomania.it relativo ai binocoli e le ottiche sportive astronomiche. Inoltre se volete venire a discutere con più di 11.000 appassionati potete venirmi a trovare sul gruppo Facebook passione, visori termici, visori notturni e fototrappolaggio. Come potete aiutarmi a divulgare la mia attività giornalistica indipendente? In vari modi. Innanzitutto potete mettere un bel vi piace se vi è piaciuto il video, condividerlo con i vostri amici, attivare le notifiche e se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi gratuitamente a questo canale utilizzando l'icona qui in alto. io colgo l'occasione per augurare un felice Natale a tutti voi, quindi questa sarà l'ultima video recensione per il 2023. Buon Natale a voi e famiglia e un caro saluto a tutti. Ciao ragazzi!